Bene, benvenuti! Vediamo ora come realizzare un'animazione di un tipo di orbite un po' più complesse. Qui abbiamo un pianeta o un sole centrale, attorno a questo sole circola un pianeta che gira e attorno al pianeta gira un satellite. Questa animazione, se la vediamo effettivamente in funzione, fa questo mestiere. Vedete che c'è il... ecco che abbiamo tutto che sta girando. Ora vedremo come implementare questa cosa. Tra l'altro forse possiamo fare addirittura anche ruotare il pianeta centrale, ma quella è la cosa più semplice da fare. Ora in questo video vediamo semplicemente solo, esclusivamente questa animazione, quindi 100 step in cui fanno questo movimento. Quindi partiamo come al solito da uno schema bianco, cominciamo coi cubi, prendiamo il cubo visto dall'alto, col 7 del tasterino numerico. A questo punto questo cubo lo duplichiamo, quindi shift D, e lo spostiamo lungo per esempio la X, un pochino lontano in modo tale da fargli fare poi la... Avete comprimuto la X in modo tale da bloccarlo sull'asse X. Faccio S per restringerlo un po' per farlo diventare un pianetino. Dopodiché faccio il nuovo shift D, X per spostarlo, per ottenere la luna, che a questo punto con S la scalo, la faccio piccola. Quindi ecco che abbiamo ottenuto i tre pianeti, cioè sole, pianeta, luna. E proviamo, beh intanto per renderli un pochino realistici, perché adesso sono dei cubi, li selezioniamo tutti e tre. Questa è una grossa potenza di Blender 2.8, di selezionare più oggetti e di fargli su tutti e tre un'operazione che può essere CTRL 3, che li fa diventare sferici, e poi tasto destro, smooth, che li fa diventare tutti, diciamo, morbidi. E quindi abbiamo i nostri tre pianeti. Ora, lo guardiamo dall'alto, col 7, e cerchiamo di fare in modo tale che questo pianeta percorra un'orbita circolare. Quindi, anzitutto, clicchiamo sul centro, quindi abbiamo il cursore che è selezionato al punto centrale, quindi cerchiamo di essere lì, e facciamo Shift A, e ci teniamo una curva, una curva che sarebbe una curva di bezier, ma la facciamo circolare. Circolare vuol dire che, vedete che la curva è praticamente un cerchio. Allora, questa curva la scaliamo in modo tale che arrivi fino al nostro pianeta. Quindi questo pianeta gli faremo fare il giro attorno a questa curva. Ora, questa cosa è già così, è abbastanza semplice, nel senso che basta cliccare il pianeta, poi Shift, clicchiamo sempre a sinistro la curva che abbiamo appena generato, e poi facciamo Ctrl P, e otteniamo un parenting che si chiama Follow Path. L'ho fatto vedere anche nel video l'ultima volta. A questo punto abbiamo che questo oggetto seguirà la curva e impiegherà 100, tipicamente fa 100, 100 step, e questo seguirà la curva. Quindi quello che otteniamo è che, se andiamo al primo frame di animazione e facciamo il play, abbiamo che il pianeta segue, come vedete, fedelmente il nostro path. Ora, il problema successivo è quello di fargli, fare in modo tale che questo, lo facciamo così, quindi andiamo sul frame 0, così ce l'abbiamo proprio in posizione allineata, ora vogliamo che anche questo pianeta sia il che segue un'altra curva, così. Quindi, prima di tutto, cosa facciamo? modifichiamo in modo tale da avere il cursore al centro del nostro pianetino. Ok, scusate, comunque vi spiego anche questo altro trucco, quindi per riuscire ad avere dei cerchi che partono esattamente da un punto ortodosso, dobbiamo mettere il cursore esattamente al centro di questo oggetto. Per farlo c'è un trucco, questo trucco è lo Snap To, e lo Snap To si fa con Shift S, quindi facendo Shift S vediamo che abbiamo Selection To Cursor, oppure Cursor To, e noi ci interessano Cursor To Selected. Se facciamo Cursor To Selected, dobbiamo che il cursore è messo esattamente al centro dell'oggetto selezionato. Adesso facendo Shift A, e prendendo la curva, possiamo avere un cerchio che parte esattamente dal centro del nostro pianetino. Senza cosa potevamo farlo anche prima, facciamo S per scalarlo in modo tale da raggiungere la Luna. Ora, per ottenere quell'effetto di edipazione che abbiamo visto prima, occorre che ovviamente la Luna sia imparentata, quindi la selezione, poi fa Shift P, Shift tasto sinistro, e facciamo Ctrl P e facciamo un Follow Path, ma visto che questa curva così starebbe ferma, quindi se noi vedessimo all'inizio e facciamo il coso, vedete che lei gira e torna la circonferenza, ma la circonferenza rimane ferma, quindi torniamo all'inizio, gli mettiamo il frame 0, e allora dobbiamo fare in modo tale che questa circonferenza sia legata a questo oggetto, come l'abbiamo costruito, quindi selezioniamo la circonferenza, Shift clicca l'oggetto, Ctrl P, facciamo Object. A questo punto abbiamo una relazione, cioè questa orbita è associata a questo pianeta, quindi se muoviamo il pianeta si muoverà anche l'orbita relativa, e se facciamo l'animazione vedremo che effettivamente abbiamo quello che ci aspettavamo. Per completare l'opera bisognerebbe solo aggiungere che anche questa circonferenza qua è legata a questo oggetto, quindi facciamo questo, Shift clicca il sole, Ctrl P, Object, in questo modo abbiamo la possibilità di, cioè se dovessimo muovere anche il sole, che magari fa anche lui una traiettoria complessa, tutte le nostre animazioni praticamente si comporteranno di conseguenza, quindi questo è interessante, quindi se noi volessimo fare il sole che gira attorno a un altro, che faccia un'altra traiettoria, per esempio potremmo farla, potremmo mettere una traiettoria qui, quindi praticamente selezioniamo un punto, facciamo pure un Shift A, mettiamo una curva, e mettiamo un cerchio, che adesso è messo lì, lo mettiamo però un po' distante, tipo qua, lo ampliamo, e vediamo che abbiamo la curva, dopodiché, ecco un altro piccolo trucco, potremmo fare anche una traiettoria ellittica, traiettorie ellittiche possono essere fatte, selezionando per esempio queste due maniglie, e facendo S, Y, quindi praticamente abbassandole, ecco abbiamo una sorta di traiettoria ellittica, quindi il sole vedete che è obbligato, a seguire questa traiettoria, per farlo dobbiamo al solito, fare cliccare il sole, cliccare la curva, CTRL P, e abbiamo follow path, a questo punto abbiamo, vedete che c'è il sole che punta, c'è una riga tratteggiata, che dice che il sole sostanzialmente segue quella linea, se vediamo a questo punto, facciamo il play di questa cosa, vedete che il, c'è, ecco, non ha proprio fatto quello che mi immaginavo, ecco perché, il sole deve essere messo nel punto in cui effettivamente comincia la linea, quindi questo qui lo spostiamo, no, dunque, selezioniamo soltanto il sole, e lo spostiamo nel punto in cui è collegato, che è questo, e adesso dovrebbe funzionare, quindi, rifacciamo il, ecco, quindi così vedete che segue fedelmente quello che ci interessava vedere, quindi abbiamo un, un sole, un pianeta che segue una certa traiettoria, attorno a lui c'è un, c'è un pianeta, che segue sempre una traiettoria, e attorno al pianeta c'è ancora un, un satellite che segue le loro traiettorie, questa cosa, adesso vedremo come invece modificare le velocità, e quello è un pochino meno banale, al prossimo video.